Il sindaco di Napoli, dopo le polemiche dei giorni scorsi, parteciperà alla cabina di regia? Speriamo innanzitutto che finalmente il governo e il presidente del Consiglio comincino con la bonifica, perché si sono persi due anni dalla firma del protocollo del 14 agosto del 2014, dove il governo si impegnava a bonificare e pensiamo a quello che già si doveva far prima con l'accordo di programma del 2007. Prendo atto che in piena campagna elettorale il presidente del Consiglio si assume la responsabilità politica della cabina di regia. Vede, direttore, alla luce anche di quello che è accaduto in Basilicata, ci vorrei tornare tra breve, e alla luce di quello che ho detto durante l'iter che ha portato al decreto legge sullo sblocca Italia, la realizzazione dell'articolo 33, e quello che ci siamo assunti come amministrazione, di cui personalmente me ne assumo la responsabilità politica, istituzionale e giuridica di quello che ho detto sin dal primo momento, che l'articolo 33 sblocca Italia a Bagnoli è un corpo di reato, io non posso impegnare la mia persona per la coerenza tra quello che ho rappresentato in magistratura e oggi da sindaco di Napoli e impegnare l'amministrazione che ho l'onore e l'onere di dare di entrare in un luogo in cui tutto c'è tranne la trasparenza e in cui il presidente del Consiglio è il principale responsabile politico di quella cabina di regia. Noi vogliamo dialogare con il Comune e ci stiamo dialogando, poi mi auguro dopo di poter entrare nel merito delle questioni, quindi sempre pronto e anzi chiedo attraverso l'ANSA di poter avere finalmente l'onore, il privilegio, non so se chiamarlo così per un sindaco che da un anno e mezzo chiede di poter incontrare il presidente del Consiglio per parlare di Bagnoli e forse se il presidente del Consiglio mi avesse ascoltato un anno e mezzo fa probabilmente non si consumava una delle operazioni più opache della storia istituzionale del nostro Paese attraverso legge ordinaria di commissione tra presunto interesse pubblico e ben individuato interesse privato. Io sono disponibile, anzi vorrei incontrare mercoledì il presidente del Consiglio ma tra due istituzioni individuate nella Costituzione della Repubblica italiana, il presidente del Consiglio, capo dell'esecutivo nazionale e il sindaco di Napoli eletto dal suo popolo a rappresentare gli interessi pubblici e collettivi della città e che intende solamente difendere con le mani pulite la sua città, quindi io chiedo un incontro al presidente del Consiglio ma non entro in un luogo in cui si sta consumando un'operazione assolutamente turbida alla quale voglio stare distante e starò sempre distante che è la cabina di regia. Nell'ipotesi in cui il presidente del Consiglio anche sulla base delle decisioni del TAR le dovesse rispondere il nostro incontro non può che avvenire al tavolo della cabina di regia su Bagnoli, il sindaco di Napoli cosa farà? Ma quel luogo non è il luogo istituzionale previsto dalla Costituzione Repubblicana quando si parla di un luogo come Bagnoli, poi la cabina di regia ha anche un fatto nuovo, ha una poltrona vuota, nella cabina di regia c'era anche il ministro Guidi dello sviluppo economico, andiamo a vedere che cosa abbiamo detto in questo anno e mezzo, il nostro non è un capriccio, noi non riconosciamo quel luogo come un luogo dove si sta realizzando l'interesse pubblico del rilancio di Bagnoli, noi non possiamo stare in un luogo in cui c'è una commistione opaca tra presunto interesse pubblico che sarebbe il rilancio di Bagnoli e sinora nulla ha fatto il governo perché una cosa che doveva fare era la bonifica e l'individuazione di soggetti privati predeterminati, noi da un anno e mezzo stiamo facendo su questo tema una battaglia di trasparenza, di legalità per cercare di dare fiato alla libera concorrenza, alla ricerca, al lavoro come diritto, alla rimozione della colmata, alla spiaggia pubblica, al paesaggio, all'archeologia industriale, all'edilizia sostenibile, al parco, alla piccola e media imprese, noi non diciamo direttore solamente dei no, noi diciamo dei no a chi vuole speculare, a chi vuole chiarare commistioni opache, ma quanti si abbiamo detto in questi 5 anni? Il primo si è stata la spiaggia pubblica, il secondo si è stato il protocollo firmato col Presidente del Consiglio, che certo non abbiamo tradito noi, ma altri, al piano per Bagnoli, approvato in giunta, in Consiglio Comunale, discusso nelle scuole di Bagnoli, nell'Assemblea dei Popolari, con gli ordini professionali, la strada c'è, discutiamo del piano, governo faccia la bonifica, Renzi faccia quello che vuole, vuole andare avanti con questa cabina di regia, certo noi glielo possiamo impedire se non facendo i ricorsi previsti dall'ordinamento democratico, ma io sono convinto che se si seguono i binari istituzionali, si andrà avanti nel rilancio di Bagnoli come stiamo facendo, perché in questi 5 anni noi oggi siamo a un passo dallo sblocco a Bagnoli dalla città di Napoli, se il governo comincia la bonifica la strada è totalmente spianata. Sindaco però, su questa strada, su questa linea, la giustizia amministrativa le ha già dato torto, sancendo che l'articolo 33 dello sblocco Italia è legittimo, questo non indebolisce le sue posizioni e il suo ragionamento nell'interlocuzione con il governo? Faccio due riflessioni, una prima che non è la prima volta che decisioni vengono poi riviste nelle sedi successive, tant'è che noi stiamo per depositare il ricorso al Consiglio di Stato, ma se guardiamo con attenzione le motivazioni del Tar, tanto torto non lo vedo perché? Perché il principale elemento su cui avevamo fondato il nostro ricorso, la realizzazione della società di scopo, che era un po' la principale propagine di un'operazione assolutamente illegittima, è stata tolta, guarda caso, con una norma inserita dal governo con decretazione d'urgenza e poi dal Parlamento nel mille proroghe che elimina proprio la società di scopo. Quindi noi continuiamo a ritenere che la strada maestra è esattamente quello della Costituzione. Poi il Tar ritiene che con la cabina di regia secondo il Tar non ci sia nulla di male, che si possa commissariare, è una posizione che noi non condividiamo, ma non è che dice che il Comune perde le sue prerogative, tanto è vero che noi in questi mesi mica abbiamo aspettato la cabina di regia, perché se avessimo aspettato la cabina di regia è passato un anno e mezzo dall'urgenza del decreto legge per arrivare alla nomina del commissario. Noi siamo andati avanti in questo anno e mezzo e quindi proseguiamo con la nostra azione che è quella dei poteri costituzionali, del piano su Bagnoli e poi non dimentichiamo quello che sta avvenendo fuori anche, che è una novità, non di poco conto in questi giorni, cioè che una parte considerevole di questo ragionamento lo troviamo in un'inchiesta giudiziaria che mi sembra particolarmente rilevante che sta accadendo in Basilica, c'è vicende molto simili dove addirittura c'è stato un intervento per modificare una legge che ha una connessione molto forte con lo sblocca Italia, tanto è vero che lo stesso Presidente del Consiglio si assume in quest'ora la responsabilità politica di dire quella è una legge che ho voluto io personalmente. Qua torniamo ad una delle sue critiche più forti al governo attraverso lo sblocca Italia, su Bagnoli lei ha detto Renzi vuole favorire interessi privati, lo ribadisce ora nel momento in cui associano le due vicende, Bagnoli e il petrolio in Basilicata. Beh, io l'ho detto un anno e mezzo fa e invito tutti ad andare a rivedere gli audio e anche il video perché feci una conferenza stampa quando esattamente un anno e mezzo fa dissi qual era il livello di commistione che c'era nell'articolo 33 dello sblocca Italia e la parte più inquietante era l'individuazione dei soggetti privati beneficiari attraverso una procedura non di evidenza pubblica. E non dimentichiamo, direttore, lo voglio dire all'Ansa che il 3 dicembre 2013 il Sindaco di Napoli, ed è un precedente nella storia del nostro Paese, ha fatto un'ordinanza dopo un lavoro meticoloso fatto dagli uffici comunali e dagli assessorati competenti con cui abbiamo ordinato a chi ha inquinato negli anni precedenti alla nostra amministrazione di pagare, di risarcire. E quell'ordinanza confermata fino al Consiglio di Stato, e anche lì all'inizio le vicende si sono un po' alternate sul piatto giudiziario, ma in via di alla fine abbiamo avuto ragione su tutta la linea, chi sono stati individuati come soggetti inquinanti? Ecco, forse qua è la madre un po' di tutte le questioni. la Fintecna, società per azioni, che è una società finanziaria detenuta al 100% da cassa depositi e prestiti, che come si sa è il governo della Repubblica italiana, e poi da Cementir, che è un noto gruppo di costruttori di livello nazionale. Quindi siamo arrivati alla firma del protocollo ad agosto, dove il Presidente del Consiglio, agosto 2014, si impegnava a bonificare e a fare il nostro piano. Noi il nostro piano l'abbiamo fatto, il Presidente del Consiglio non inizia la bonifica con i poteri ordinari, fa il decreto legge sul cosiddetto sblocca Italia con l'articolo 33. Io ricordo che in quei giorni chiamai il governo e dissi ma che cosa è cambiato? Qual è la novità? Perché passiate dalla firma del protocollo che prevedeva procedure ordinarie, anche semplificate, attraverso l'accordo di programma e invece commissariate e fate l'articolo 33. E la risposta che mi fu data è il Presidente del Consiglio che direttamente sta seguendo la questione. Quindi perché il commissariamento? Perché esautorare i poteri del Comune? Perché eliminare la democrazia? Andiamocelo a leggere l'articolo 33 nella sua versione originaria. Si andava a creare una commistione tra coloro che noi avevamo individuato come anche i soggetti inquinanti che potevano agire con poteri commissariali e dall'altro i soggetti privati, i soggetti attuatori che erano poi individuati anche tra i proprietari dei suoli in bagnole. E' per questo che lei parla dell'articolo 33 anche alla luce degli ultimi avvenimenti in Basilicata come una delle più grandi operazioni di opacità istituzionali consumate attraverso leggi ordinarie. Ma assolutamente sì. L'ho detto un anno e mezzo fa e quello che sta accadendo in Basilicata innanzitutto ricorda un'inchiesta che io feci nel 2006-2007, Tocco e Lucane, che è una fotografia molto simile a quella che vediamo in questi giorni. Beh in questi giorni che cosa vediamo? Una commistione, ovviamente si tratta di indagini preliminari, sia ben chiaro, però quello che viene fuori anche dalle intercettazioni, dal compendio investigativo della Procura della Repubblica, una commistione tra centri di potere politico, imprenditori, gruppi che da anni stanno operando anche nel territorio lucano. Dieci anni fa si discuteva della stessa cosa, del petrolio imbaldato, dei finanziamenti pubblici, della commistione tra politica, pezzi di istituzioni, affari, criminalità organizzata e che si arrivi ad intervenire sulla legge ordinaria, addirittura sui decreti legge, d'urgenza. E perché d'urgenza? Perché si intervenne d'urgenza con lo Sblocca Italia con l'articolo 33 sul Bagnoli se c'era un protocollo attuato? Qual era questa urgenza? Era talmente urgente che ci hanno messo un anno in mezzo a nominare il commissario. La verità è che noi l'abbiamo smascherato, direttore, perché quella denuncia che ha fatto l'amministrazione comunale di Napoli ha smascherato l'operazione, abbiamo messo in evidenza quali erano gli interessi privati, abbiamo messo in evidenza la commistione che c'era tra l'operazione del governo attraverso il decreto legge e gli interessi privati predeterminati. Il sindaco di Napoli non è contro l'impresa, non è contro la libera impresa, non è contro i privati, contro la commistione, la collusione, il rapporto tra potere politico e prenditori, tra potere politico e proprietari dei suoli predeterminati, tra potere politico e chi ha inquinato. Pensate che l'aggiunta precedente non si costituì nemmeno parte civile, l'aggiunta precedente faceva parte la valente e oggi il Presidente del Consiglio con questa attività di forte propaganda politica forse vuole nascondere le responsabilità del passato, la vergogna del passato, o forse nascondere le primarie di adesso del Partito Democratico di Napoli che non si parla più, vuole mettere la sua faccia, bene, però deve rispondere che cosa è accaduto in quel giorno, quando io chiamai a fine agosto, e le do una notizia in anteprima, a fine agosto 2014 chiamai all'allora sottosegretario del Rio, col quale avevamo discusso con un rapporto importante, efficace, di grande rispetto istituzionale. Ma che cosa sta accadendo? Perché si cambia? Se c'è un protocollo, se stiamo lavorando per fare un accordo di programma, semplificare le procedure e quindi fare prima? La questione è stata presa in carico direttamente dal Presidente del Consiglio, quindi confermo quello che in realtà ha detto anche Renzi. Renzi sta dicendo che l'operazione sblocca Italia, l'operazione è quello che è accaduto politicamente in Basilicata, mi assumo la responsabilità di aver sbloccato, ma che cosa ha sbloccato? Fino non ha sbloccato niente, ha solo bloccato, ha bloccato il rilancio di bagnoli su cui noi da anni stiamo lavorando e una cosa gli abbiamo chiesto, bonifica e in questi mesi nonostante il commissariamento direttore, i nostri uffici tecnici insieme anche agli uffici del governo, cioè del Ministero dell'Ambiente stanno lavorando, si sta lavorando assessorato all'ambiente con Ispra, si sta lavorando sulla caratterizzazione, si sta lavorando per preparare l'abbonito, quindi noi collaboriamo a tutti i livelli istituzionali e voglio anche smentire di chi dica che il Sindaco è isolato, che il Sindaco è arroccato, noi collaboriamo ogni giorno con tutti i livelli istituzionali del nostro Paese, ma io credo che il nostro piano è un piano, se il governo ci aiuta a renderlo ancora migliore per carità, purché sia fatto nella cornice dell'interesse della città, della tutela del paesaggio, dei diritti dei lavoratori, della libera impresa, ma sono fiducioso perché il nostro è un piano buono e io dico anche questo, se il Presidente del Consiglio avesse accolto che da un anno e mezzo che il Sindaco di Napoli ha chiesto un incontro al Presidente del Consiglio e io ho anche scritto lettere e io ho anche mandato il piano, probabilmente se avesse ascoltato questo Sindaco, il Sindaco con la chiarezza, l'umiltà e gli errori che può commettere sia ben chiaro, gli avrei illustrato che cosa c'era dietro l'articolo 33, che cosa è accaduto dietro all'articolo 33 e probabilmente avremmo capito se il Presidente del Consiglio sapeva fino in fondo quali sono gli interessi, questo è il tema, noi vogliamo rilanciare bagnoli, ecco perché voglio incontrare il Presidente del Consiglio su questo e se lui riterrà di non farlo si andrà comunque avanti perché non si può non realizzare bagnoli senza la città, non si può non realizzare bagnoli senza il Comune, il Consiglio Comunale, i cittadini, il popolo e tanto è vero che noi sinura le nostre carte le abbiamo mandate e comunque si ritornerà al Comune perché anche quello che deciderà la cabina di regia, anche nel caso in cui il Presidente del Consiglio ritenga di non avere alcuna interlocuzione diretta con il Sindaco di Napoli, si tornerà in conferenza di servizi come prevede a un certo punto la legge, quindi io sono assolutamente persuaso del fatto che noi difenderemo la città da ogni tentativo di speculazione, su questo abbiamo già vinto perché l'abbiamo già smascherato, il re è nudo, abbiamo detto quello che c'è dietro, quindi questa è una grande vittoria della città e dall'altro lato ci saranno dei sì, il rilancio di bagnoli che non può che avvenire nell'interesse pubblico dei lavoratori, a risarcire anche le sofferenze di tanta gente che ci ha rimesso familiari da un punto di vista di salute, persone che sono morte, persone che sono ammalate, tanta gente che ha sete di lavoro e tutto questo lo si farà in una cornice di legalità perché noi saremo garanti di questa operazione, nessuna cosa potrà calare dall'alto, il Presidente del Consiglio deve sapere che sta cambiando la politica, che la gente almeno a Napoli si sta rappropriando della città, vuole partecipare, dice la sua, viene all'Assemblea dei Popolari, dà un contributo critico, sollecita l'amministrazione, la pungola quando sbaglia, questo fa bene al Paese, non bisogna avere paura, se c'è un Sindaco che esprime una posizione di difesa della città, io sarei molto curioso se facessi il Presidente del Consiglio ad andarlo ad ascoltare. Però Sindaco, lei è stato accusato di istigare alla violenza quando ha detto a Renzi dialogo o sarai respitto, cosa si aspetta mercoledì? La ringrazio direttore di questa domanda perché io sono un uomo delle istituzioni, sono rimasto all'interno delle istituzioni quando una certa mafia istituzionale mi ha strappato la toga di pubblico ministero e mi ha trasferito illegittimamente dalla Calabria e oggi i principali responsabili di quelle vicende sono sotto processo per corruzione in atti giudiziarie e qualche settimana fa la Procura di Salerno ha chiesto la condanna per i responsabili di quella nefandezza e dentro c'è anche Toghe Lucane e ci sono anche alcuni nominativi delle inchieste di adesso, sono uno delle istituzioni che darà la vita per difendere la Costituzione, se oggi qualcuno pensa che chi difende la Costituzione è un sovversivo non so che dire, mi iscrivo tra i difensori della Costituzione, preferisco difendere la Costituzione e calpestarla, preferisco difendere la Costituzione che mortificarla con legge ordinaria o a colpi di fiducia e degradazioni di urgenza, preferisco difendere la Costituzione che cancellare la sovranità popolare, che cancellare le democrazie di prossimità, che annientare un sindaco solo perché la pensa diversamente, è veramente trovo inaccettabile chi pensa che posizioni di difesa della città, di difesa della Costituzione, di coraggio che abbiamo avuto noi come città e come amministratori di dire che operazione c'era dietro all'articolo 33 prima che arrivasse la magistratura, beh se questo significa istigare alla violenza vuol dire che questo allora veramente è un paese della normale devianza, come direbbe un grande scrittore napoletano come Domenico Starnone, che i deviati diventano sistema ordinario e chi difende la legalità diventa sovversivo, quindi attenzione perché so guardare elementi raffinatissime che stanno dietro alle operazioni di questo tipo, non è la prima volta nel nostro paese che si vuole far convergere situazioni completamente diverse, noi siamo pacifici, siamo democratici, siamo per la non violenza, siamo per le istituzioni democratiche, soprattutto siamo per la coerenza, io le cose che facevo da magistrato le faccio adesso da sindaco, prima tenendo la toga addosso oggi portando avanti il mandato popolare con dignità, la gente mi ha votato non per piegarmi, non per sedermi a un tavolo che puzza di compromesso morale, non per dirle, poi posso sbagliare ma mi assumo la responsabilità e so avere senso istituzionale, quindi stiano attenti le persone a saldare cose che non esistono e poi sono convinto che su Bagnoli si è messa in campo anche una grande lotta popolare, che credo che fa bene alla nostra città e ovviamente qualsiasi cosa che è violenta non può essere sicuramente messa in bocca o accostata a questo sistema. Ma per mercoledì c'è un problema di ordine pubblico? Direttore io non mi occupo di ordine pubblico, non faccio il prefetto annato, io faccio il sindaco, io mi auguro che ci sia nel corso della storia di questa città, per Bagnoli come per tutto una grande lotta popolare, una grande mobilitazione, io sono orgoglioso della mia città, dell'energia vitale che si sta spregionando e ovviamente mi auguro, ma questo vale sempre, per coledì come per altro ogni giorno, per la nostra vita che non ci sia violenza, io mi sono sempre unito alla non violenza, quindi ognuno protesta con le modalità che ritiene di dover adottare, lei sta chiedendo al sindaco di Napoli, il sindaco di Napoli ha detto qual è la sua lotta ed è una lotta non violenta e che l'auspicio che io faccio alla mia città in generale è di fare una grande battaglia pacifica, per Bagnoli come per tutto, perché siccome la giustizia è dalla nostra parte, la difesa della città, un bel sentimento popolare di difesa dei nostri territori, io credo che la migliore arma è quella della cultura, della lotta democratica, del coraggio, dell'autonomia, della passione e della forza dei nostri curi e dei nostri corpi che sanno resistere anche alle provocazioni, quindi io non cavo in questo abito che mi sembra un po' preconfezionato che qualcuno vuole dare, l'abbiamo già visto, del resto anche la dichiarazione del Presidente del Consiglio di sabato prima di Pasqua aveva qualche accento un po' provocatorio, non so perché, chi gliel'abbia suggerito, per farina del suo sacco che accosta la vicenda a Bagnoli alla Val di Suso all'Expo di Milano? non c'entrò niente con Bagnoli, perché l'ha detto? Secondo lei? Mi fermo qua. La battaglia su Bagnoli, la sua analisi di oggi lo conferma, rafforza l'immagine di De Magistris come leader antagonista in tutte le sue varie accezioni. Il passaggio da Palazzo San Giacomo verso altri palazzi è in questa prospettiva o lo scenario è diverso? Io mi auguro di continuare in quel percorso che mi ha fatto tanto bene, Palazzo San Giacomo sindaco di strada, Palazzo San Giacomo sindaco della città. Io amo profondamente la mia città, sono un napoletano doc, sono meridionale, credo che il riscatto del sud faccia molto bene al Paese, uniti nella diversità e io mi impegnerò con tutte le mie forze per fare il sindaco di Napoli per i prossimi 5 anni. Certo, sono consapevole che Napoli acquisirà un ruolo di soggettività politica autonoma, che Napoli ha dimostrato di mettere in campo politiche non liberiste, di reggere al cappio della finanza, di non privatizzare i servizi essenziali, di mantenere l'impegno dell'acqua pubblica, siamo gli unici, abbiamo tolto l'emergenza rifiuti, stiamo dando dignità al popolo che è protagonista di questa città, governato senza soldi, ma con grande impegno e con le mani pulite, con grande passione, mettendo al centro l'uomo, il capitale umano, la forza del sud, della nostra città. Questo è un lavoro che si deve continuare a fare, anche per i prossimi 5 anni, quindi non mi candido a fare il leader della nuova sinistra o fare il leader antagonista al Presidente del Consiglio, contrasteremo le politiche renziane dal basso, da sud, da Napoli, dai nostri territori, difendendo l'articolo 9 della Costituzione, contro le tivelle, contro le grandi opere pubbliche, contro le cementificazioni, contro le eco-mafie, contro le mafie che stanno dentro allo Stato, per tutta la vita fin quando l'ultimo dei corrotti e l'ultimo dei mafiosi sarà cacciato dallo Stato. Questo è l'impegno che mi sento di prendere non da candidato al Parlamento, ma da sindaco della mia città che in questi 5 anni ho onorato, come si dice, H24.